Musica Si sono accese a Ulisi della svolta, quindi io sono emozionata. Sono accese anche le lacrime. Sì, io sono giorni che piango praticamente perché un ringraziamento particolare lo voglio fare a mio marito e ci tengo perché oltre alla mia famiglia che sta alle mie spalle perché altrimenti tutto questo che è la mia svolta non sarebbe stata possibile. Quindi grazie a mio marito. Scegliere questo nome è stata mia madre che per me è un esempio di vita ed è colei che da una svolta ha fatto sì che sia un punto di inizio. E quindi questo nome è proprio perché questo locale ha avuto diverse gestioni, però è nato con mio padre e oggi ho deciso di mettermi in gioco io come donna, come imprenditrice perché ci credo. Quindi la svolta proprio per questo motivo. La forza me la dà la mia squadra, la forza me la dà il mio posto, la forza me la dà la mia famiglia. Io sono del Vallo, sono nata qui, sono cresciuta a Sala, poi ho studiato fuori, ho girato un po' per il mondo perché ho fatto la cantante. Poi quando sono tornata sono diventata una mamma e ho deciso di creare qualcosa per noi, per noi del Vallo. Quindi un locale che abbracciasse tutte le fasce d'età, un locale che sia un po' un polivalente, dove alla svolta puoi venire a bere un drink, puoi venirmi a trovare per un rum, puoi venire a mangiare un buon piatto di bistro con il mio chef che è per me un amico oltre ad uno chef. puoi venire a mangiare una pizza fatta da donato che io ho scelto ed è un pizzaiolo che ho reputo l'eccellenza e bere un buon cocco dalle mani del mio bartender che è Cico. Quindi vogliamo offrire la possibilità alle persone di ritrovarsi in un modo accogliente, in un posto dove venirci a trovare come sentirsi a casa. Noi cerchiamo proprio di trasformare l'arte dell'ospitalità con piccoli gesti. Quindi ti ripeto, questo locale è un locale che è nato con mio padre, quindi per me è casa mia. In questo momento storico dobbiamo credere in qualcosa, quindi c'è bisogno di svoltare, noi così diciamo noi della nostra squadra. Quindi questa è la verità. Bisogna svoltare, che cosa ti aspetti dal 2022? Dallo 2021 mi aspetto aria buona, questo mi aspetto per tutti, per tutti e non solo per me della svolta. Aria buona, la possibilità di poter respirare e di poter essere liberi, di poter tornare a riabbracciarci, questo mi aspetto dalla svolta. Io penso che ognuno offre quello che ha, io offro quello che sono, quello che noi siamo. Io spero che la svolta sia, forse voglio peccati presunzione, concedimelo, sia quel che manca. Mettiamo così, quel che manca. Mettiamo così, quel che manca.